Non un pestaggio per motivi di cuore o per uno sgarro, ma una sorta di fight club con i presenti ad incitare i due contendenti a darsele di santa ragione. Pugni, calci e mani a morsa sul collo. E' uno degli inquietanti video che stanno iniziando a circolare sul web. Uno spaccato di quanto succede giornalmente nella stazione degli autobus di Muggia, che con la stagione balneare vede arrivare centinaia di adolescenti. Questi poi prendono la 7 o la 27 con destinazione Molotì o Aquario, verso le 18 stesso film con i ragazzi che ritornano verso Trieste. Una parte di questi però evidentemente non rinfrescati a sufficienza dalla giornata al mare, danno vita a risse, schiamazzi, gettano petardi, si sdraiano sui cofani delle auto, lasciando immondizie in tutta la zona, compresa la pensilina della stazione, dove non di rado ci sono chiazze di vomito. Il tutto con l'ovvia conseguenza di rendere invivibile la zona per i residenti. Abbiamo già organizzato, avvisa il primo cittadino Paolo Polidori, con Polizia Locale e Polizia di Muggia, dei controlli coordinati sul territorio, ma i numeri di questi giovani sono troppo grandi e il pericolo di un aggravamento repentino della situazione è alto. Ho chiesto al prefetto una riunione urgente del Comitato di Sicurezza, ha annunciato il sindaco, che si terrà mercoledì prossimo per poter mettere in campo delle misure di controllo e di prevenzione molto più strette. A Muggia sono tutti benvenuti, ma questi comportamenti non sono tollerabili.